Ecco, devo dirvi che intervenire sul ritmo dopo la relazione di Julien Lamy richiede due doti che spero di avere. Uno è un'audacia bachelardiana e l'altra invece una fede deleusiana nella differenza, nel fatto dunque che qualsiasi ripetizione, anche magari un po' sbiadita, porta in sé qualcosa di inedito. Il ritornello, deleus lo spiega molto bene, anche gli animali hanno sempre modo di rinventare. Allora ecco, speriamo che i miei due numi mi assistano. La materia non è un'esteriorità che si offre nella durata, ma è ritmo. Questa è una frase che bachelard scrive nella dialettica della durata. Dunque ci dice bachelard che una delle provocazioni della materia è costituita proprio dalla sua natura ritmica. Ed è questa provocazione della materia che gioca un ruolo importante, di grande interesse nel percorso di bachelard, perché è la provocazione che lo forza ad una riflessione che non è definibile né propriamente di natura epistemologica, né propriamente di natura poetologica. Quindi è una riflessione che va oltre quella natura da Erma Bifronte, che ha sempre un po' inquietato in bachelard, ha sempre inquietato l'uomo dello specialismo estremo, quell'uomo che ognuno di noi rischia di essere. Molti degli studiosi più acuti di bachelard hanno valutato questa riflessione come di natura squisitamente filosofica. Quindi è questo bachelard che si fa filosofo del ritmo, quello che voglio qui esaminare, e a partire dai testi più importanti che bachelard ha dedicato alla questione del tempo, che sono l'intuizione dell'istante e la dialettica della durata. Precisamente il mio intento è quello di utilizzare la disamina della risposta bachelardiana alla provocazione ritmica della materia, per delineare quello che io chiamo lo stile profondo del gesto di pensiero che contrassegna il bachelard filosofo, colui che viene quindi condotto al gesto filosofico proprio in relazione alla questione del tempo. E mi farò aiutare in questo percorso da un lettore di bachelard che è stato assai poco indagato in relazione al grande pensatore di Bachelard, Gilles Deleuze. L'uso che vorrei fare di Deleuze, come lettore di bachelard, così suona, recita nel titolo, dal ritmo al ritornello, Deleuze lettore di bachelard, vorrebbe andare in direzione del senso che il termine lettore assume nelle attuali tecnologie mediatiche, dove un lettore è uno strumento di rilevazione di qualcosa che è già scritto, che attraverso il lettore può acquisire una nuova leggibilità. La tesi del mio intervento è che la questione del tempo sarà per Bachelard il terreno in cui andrà ad operare un movimento di pensiero che si ritrova anche in Deleuze, declinato con un altro stile, ovviamente si tratta di due pensatori di grandissima originalità, entrambi questo movimento lo compiono secondo uno stile particolare, ma questo movimento lo definirei così, da una ontologia del tempo a un'etica del ritmo. allude questo movimento a una lettura della filosofia che avvicina Deleuze a Bachelard, perché indica un incedere della filosofia verso quello che si rileva essere un compito di fondo, disegnare e tratteggiare un ethos. Una frase tratta da La Terre e le Rouverie du Repos recita così «La meditazione sul tempo è il compito preliminare di ogni metafisica». Come mai vi è questa priorità filosofica del tempo? Bachelard ci spinge in questa direzione laddove osserva nel medesimo libro che in letteratura non esiste un solo caos immobile. Questo vuol dire che il divenire, se pensato davvero nella sua radicalità, è legato in maniera stretta e intrinseca alla questione per l'appunto del caos e ne ha un suo carattere peculiare insieme alla molteplicità. Questa è un'aggiunta di Bachelard. Molteplicità e divenire sono carattere del caos. E quindi è comprensibile come il pensiero filosofico e la ragione intrattenga con il divenire un rapporto ineludibile quanto difficile e che abbia cercato nel corso della nostra tradizione di pensiero, ma tutt'oggi, abbia cercato costantemente di esorcizzarlo, di addomesticarlo in vari modi, giungendo o a negarlo definitivamente, proclamando che l'essere è immobile, oppure definendolo secondo degli stereotipi delle figure chiuse. Ed ecco che il divenire poteva essere letto come evolutivo, ciclico, lineare e così via. A tale proposito si potrebbe dire che nell'intuizione dell'istante Bachelard va a confrontarsi in maniera polemica con la forma di addomesticamento del divenire più di risonanza al suo tempo, lui contemporanea, che è la concezione della durata di Bergson. E questo confronto lo fa con la piena consapevolezza che pensare il tempo in una direzione differente rispetto alla continuità della durata è un'impresa estremamente ardua. Le sue parole sono il tempo è la cosa più difficile da pensare sotto forma discontinua. Questo leggiamo nell'intuizione dell'istante. Queste parole di Bachelard ci invitano a soffermarsi sul compito che sembra qui essere attribuito alla riflessione filosofica. Andare in direzione di ciò che è più difficile, che vuol dire pensare altrimenti, pensare oltre, pensare di più rispetto ad una piatta adesione al senso comune, all'immediato, al consueto. Bachelard ne è perfettamente consapevole quando va a considerare i punti di forza del tempo come durata. La durata sembra intramata nel tessuto stesso del nostro discorso. È infiligrana nella grammatica quanto nella sintassi, quanto nella morfologia. Tutto questo è evidente, dice Bachelard. Però poi ci dice che il compito del filosofo è quello stesso che Mallarmé attribuisce al poeta. dare un senso più puro alle parole della tribù. Quindi, nell'intuizione dell'istante, ci troviamo di fronte a questo progetto che potremmo chiamare di purificazione del senso, in riferimento, in questo caso, al concetto di tempo durata. E come si presenta questo lavoro filosofico di purificazione del senso? Ecco, dobbiamo subito dire che non è uno sforzo coscienzialistico solipsistico. Non è in questa direzione che va il filosofo. Anzi, potremmo dire che anche qui ci troviamo al cospetto di una comunità. Quella comunità evocata varie volte a proposito dell'apistemologia, l'abbiamo anche qui. Perché nell'intuizione dell'istante vi è una polifonia di voci che vengono chiamate raccolta nel lavoro di purificazione del senso a proposito del tempo. Abbiamo la voce ispiratrice di Rupnell, della sua poetica dell'istante. C'è la voce potente di Einstein che risveglia dal sonno dogmatico della ragione e del pensiero della durata la filosofia. C'è la voce del filosofo Albach che insegna come i quadri sociali della memoria sono fondamentali nella costruzione anche della memoria individuale. Quindi togliendo di mezzo quella presunta consistenza di una durata psicologica. E questa polifonia al lavoro nella purificazione del senso ci richiama poi il concetto di lavoro filosofico che troveremo in Deleuze. Deleuze difficilmente parla in prima persona ma anche lui convoca e parla attraverso una serie di filosofi e non solo di letterati, di poeti. Quindi potremmo dire che il prodotto concettuale a cui mira qui Bachelard che poi si concreterizzerà nel concetto distante risulta una sorta di risultato alchemico della fusione di tutti questi differenti materiali che viene liberato dalla contingenza dei diversi ambiti per poter rispondere alla fatidica domanda definitoria la domanda socratica TST che cos'è? In questo caso la domanda socratica si declina nella domanda che cosa è il tempo? E la risposta di Bachelard filosofo è il tempo è l'istante. Io direi non tanto diversamente si comporta Deleuze quando si confronta con la questione del tempo una questione nodale fondamentale anche per Deleuze e per la stessa ragione per cui è importante per Bachelard ha a che fare col divenire bisogna confrontarsi col divenire ed è la prima sfida del pensiero della filosofia nel caso di Deleuze di un pensiero e di una filosofia che voglia attraversare il caos. Nella logica del senso Deleuze ripropone la distinzione stoica tra Aion e Kronos e invita a pensare la temporalità paradossale dell'evento Aion che è il nome che Deleuze dà all'istante all'istante di Bachelard la concezione verticale dell'evento che irrompe nella durata all'effetto di erodere il tempo dall'interno e di sfaldarlo perché l'evento che fa irruzione nella linearità di Kronos viene da un fuori risultante dicibile e dunque oggettivabile solo nel linguaggio il tempo istante il tempo evento dipende dunque da una narrazione che lo rende visibile inoltre l'evento istante non essendo assimilabile al prima e neppure al poi del futuro ha la natura di una sorta di fratempo intratempo che bucherella il tempo lo punteggia di buchi di attemporalità e un'ultima considerazione vorrei fare sulla questione della risultanza teoretica del lavoro sul tempo in Deleuze e delle relazioni che possono essere fatte con la risultante teoretica sullo stesso tema in Bachelard Deleuze come risultato teoretico più importante dell'ultima ricerca sul tempo ha il concetto di cristallo di tempo è un concetto molto complesso qui sarò perdonatemi estremamente sommaria l'immagine del cristallo per Deleuze rappresenta e mostra quello sdoppiamento costitutivo del tempo nell'istante presente a partire dal quale si dà un passato non preesiste un passato ma è il passato del presente che si costituisce e nello stesso tempo lo sdoppiamento del futuro che accade pure nel presente la coalescenza quindi di questi tre momenti è ben rappresentata dal concetto di cristallo di tempo ora nell'impegno razionalista che è un testo del 1929 quindi ben precedente ai testi dedicati al tema del tempo Bachelard usava la medesima immagine del cristallo proprio per indicare il tempo e diceva il cristallo è forse la cellula solida dello spazio-tempo in un testo del 48 La Terre e le Ruevrierie della Volonté Bachelard intracciassero intracciassero strettamente passato presente futuro con questa ricorrenza questo ritornello del cristallo mi sembrava interessante da evocare ma non si tratta qui comunque di considerare gli esiti della pratica teoretica di Bachelard intorno al tempo semplicemente di osservare come questo gesto di lavoro definitorio come l'abbiamo definito accomuna nell'approccio alla questione del tempo l'esordio di Bachelard filosofo e buona parte della ricerca di Deleuze ma torniamo adesso a Bachelard già nell'intuizione dell'istante era comparso seppur in modo non ancora tematico il concetto di ritmo d'altra parte agisce ben presto come ci ha raccontato Lamy nel lavoro di Bachelard e nell'intuizione dell'istante al concetto di ritmo veniva attribuito un ruolo tutt'altro che marginale addirittura il ruolo di definire l'individualità come una somma abbastanza variabile di ritmi nella Dialetite de la Durée il ritmo giunge ad acquisire un ruolo centrale che si può intendere in tutte le sue implicazioni solo a partire da una finalità esplicita di questo secondo lavoro da filosofo sul tempo di Bachelard è una finalità esplicita che Bachelard esprime chiaramente nella premessa del lavoro dice Bachelard il testo che qui vado a presentare può perdere la sua oscurità solo se noi lo riferiamo al fine metafisico che ci prefissiamo che è quello di aprire ad una filosofia del riposo riposo è un concetto inedito è un concetto insolito nella nostra tradizione metafisica di pensiero eppure Bachelard insiste dicendo il riposo è uno degli elementi fondamentali del divenire è inscritto nel cuore dell'essere e poi queste sono sue parole dobbiamo sentirlo nel profondo stesso del nostro essere intimamente mescolato al divenire adesso impartito al nostro essere a livello stesso della realtà temporale sulla quale poggiano la nostra coscienza e la nostra persona dunque Bachelard dice che le ragioni del riposo si situano là dove poggiano la nostra coscienza e la nostra persona quindi in una zona di impersonalità che vi è nella persona e ci dirigono queste sono sempre sue parole ad un esame delle potenze negatrici dello spirito lungo questa strada che deve aprire una filosofia di riposo incontriamo il ritmo Bachelard ci dice subito perlomeno dove non vuole condurci attraverso la filosofia del riposo non ci vuole condurre ad un'apologia della vita appartata e tranquilla non ci vuole condurre ad una strada per la liberazione dalle passioni non c'è quindi nessuna volontà di portare ad una riedizione coetista dell'ideale storico epicureo dove invece vuole condurci lo si comincia a capire a partire dal confronto serrato che Bachelard avvia nel primo capitolo del testo scusate che Bachelard avvia nel primo capitolo del testo proprio con Berson qui si trova espressa la volontà di supplire a ciò che Berson secondo Bachelard non coglie non comprende Bachelard dice si può accettare tanto di Berson alla fine prodursi in un bersonismo ma discontinuo direi che in realtà la critica che Bachelard muove a Berson può essere estesa a tutto un abito di pensiero costantemente reiterato nel corso della nostra filosofia di cui Berson è qui proprio la espressione contemporanea Bachelard la filosofia di Berson ci fa capire Bachelard manca di nulla ovvero la sua è una filosofia della plenitude come osserva Bachelard il cui oggetto è un essere compatto che è l'an vital un'espressione continua dunque di una durata in cui non c'è posto alcuno per lacune per tagli assenze rotture ossia per tutti quei caratteri senza cui è impensabile un divenire che voglia davvero essere tale per cui osserva Bachelard la filosofia di Berson giunge al paradosso di presentarsi come una filosofia del divenire che poi però non è in grado di accogliere in sé il carattere fondamentale del divenire perché espunge ciò che nel divenire è creativo proprio in nome della continuità io direi che qui arriviamo proprio una sorta di centro nervoso di ganglo vitale del pensiero di Bachelard che siamo di fronte a un tema che Bonicazzi ha giustamente identificato come quello di abbandonare la filosofia di un giorno che è sempre lo stesso e solo abbandonando la continuità senza lacune dunque assumendo quella che Bachelard chiama anche nella dialettica della durata la tristezza del cambiamento perché aveva una tristezza profonda nel cambiamento in quanto implica l'accettazione di una scomparsa nell'intuizione dell'istante si riferiva a Rucknell però parlava di una drammaticità dell'istante ecco solo quindi abbandonando la continuità e accettando la tristezza del cambiamento in tutte le sue forme ci si può aprire all'imperativo bachelardiano che dice il faut repartir tenendo presente che come ci dice Bonicalzi la filosofia del ri ricominciare rinnovare riorganizzare mette in campo tutta la costellazione concettuale specifica dell'epistemologia di Bachelard ostacolo epistemologico rottura discontinuità rettifica dunque accedere al ritmo non è una questione che si possa liquidare nei termini esclusivi di una sostituzione definitoria per cui Bachelard nella dialettica della durata si limiterebbe a perfezionare l'asserto il tempo è l'istante a cui era giunto già nell'intuizione dell'istante con quello il tempo è un ritmo di istanti da contrapporre alla stratta definizione bergsoniana il tempo è durata non è solo questo che accade nella dialettica della durata certo convengo che rimane presente lungo l'intero testo quella modalità che è già stata osservata a proposito dell'intuizione dell'istante quella modalità di purificazione del senso la purificazione filosofica chiamando colloquio una molteplicità di voci attraverso le quali l'istanza teoretica veritativa in Bachelard abbiamo visto l'istanza teoretica veritativa non è mai solipsistica un'istanza teoretica veritativa dicevamo della discontinuità e della pluralità temporale si possa pienamente dimostrare ed ecco la convocazione di psicologi come Pierre Jeannet come Eugenio Rignano del poeta Valéry che definisce l'algebra degli atti del filosofo Eugène Duprelle è una presenza molto importante questa poi ci si richiamerà anche anche Deleuze proprio a proposito del ritornello e della sua teoria del consolidamento che ci insegna come la costruzione della durata non è un'espansione da un nucleo verso l'esterno ma avviene invece per intercalazione e poi vengono richiamate le voci della scienza la fisica quantistica di Louis de Broglie e la biologia ondulatoria cara a Pignero Sdossanto ma tutto questo importante lavoro teoretico rimarrebbe oscuro Bajdar ce l'ha detto all'inizio nella premessa ci ha avvisato subito che è propedeutico a una filosofia di repos a cui si chiede la liberazione effettiva dell'ulant vital che può avvenire soltanto attraverso l'assunzione ritmica del discontinuo della sua tristezza e a questo progetto ci ha raccontato benissimo Giuliano Lamì come questo progetto ha una serie di traversie di avventure nel corso della riflessione di Bajlard però Bajlard si sente ancora legato nel 57 quando può scrivere nella Poétique dell'Espace dicevamo una volta che attraverso l'esame dei ritmi della vita nel loro dettaglio scendendo dai grandi ritmi imposti dall'universo ai ritmi più sottili che mettono in gioco le sensibilità estreme dell'uomo si poteva stabilire una ritmoanalisi potenzialmente capace di rendere felici ecco io trovo molto emozionanti queste parole di di Bajlard perché sono di una semplicità disarmante quanto profonda che audacia richiamare la felicità eppure in questa audacia vi è tutta la radicalità della piega etica che Bajlard sta imprimendo alla questione del ritmo il valore terapeutico personale della ritmoanalisi Bajlard l'ha sottolineata ampiamente diceva nella dialettica della durata bisogna guarire l'anima sofferente in particolare l'anima che soffre del tempo dello spleen tramite una vita ritmica tramite un pensiero ritmico tramite un'attenzione e un riposo ritmico e poi diceva aggiungeva bisogna innanzitutto sbarazzare l'anima dalle false permanenze dalle durate malfatte disorganizzarla temporalmente quindi il primo lavoro è quello di togliere il tempo organico rinunciare all'organismo pieno della durata mostrare i buchi e i vuoti assumerli e questo il lavoro attraverso cui si può accedere alla prassi del ritmo e dunque non al ritmo come ente concettuale ma una pratica di modificazione dei ritmi di armonizzazione dei ritmi che assume insieme agli atti e ai pieni anche i vuoti la passività e il riposo Bachelard ci invita a considerare che il ritmo è una pratica possiamo aggiungere una potente pratica antropopoietica qui il gesto di Bachelard da teoretico diviene etico perché la ritmoanalisi non consiste nella semplice sostituzione di una risposta alla domanda TST che cos'è il ritmo stesso non lo permette e non permette una risposta definitoria del tipo il tempo è il ritmo non lo permette assolutamente in primo luogo come è stato dimostrato da molti studiosi come ci ha richiamato Giulio Lamy vi è un rapporto molto stretto anche con la dimensione spaziale il ritmo è il modo attraverso cui l'uomo costruisce il proprio abitare tanto che potremmo parafrasare Heidegger che a sua volta parafrasava Rilke e dire ritmicamente abita l'uomo il ritmo ma meglio i ritmi sono quella pluralità delle pratiche entro cui si temporalizza e si spazializza Bachelard usa un esempio a mio parere molto bello nella dialettica della durata perché evoca la bella campagna francese di cui parla Roupnell dove i ritmi del paesaggio incontrano nei solchi di aratura nelle linee dei vigneti i ritmi degli sforzi muscolari intellettivi dell'uomo del lavoro e qui piccolo inciso c'è una riflessione interessante sul lavoro come sovrapposizione di ritmi i ritmi della materia e i ritmi dell'uomo è un esempio che evoca la ricchezza delle determinazioni spaziali dell'umano che va ben oltre a quel rapporto forse un po' angusto tra tempo e coscienza in cui sembra giocarsi tutta la soggettività nella nostra tradizione filosofica il ritmo abbiamo detto all'inizio è della materia di ogni materia non è esclusivo privilegio dell'uomo se l'uomo ha un privilegio è quello di non essere solo giocato dai ritmi materiali dai loro intrecci con i ritmi muscolari intellettivi spirituali poetici in questo gioco ritmico l'uomo ha un margine di intervento che la ritmoanalisi vorrebbe guidare verso una felice armonia forse quell'armonia che Bachelard stesso trovò attraverso la singolarità e l'originalità del proprio ritmo un ritmo esistenziale fatto di alternanza tra ragione scientifica e poesia momenti di attività della ragione che si fa critica e vigilante e momenti di passività produttiva passiva accettazione del flusso delle immagini Deleuze e Gattari tra le prime fonti citate nella terza sezione di Mil Plateau dal titolo Il ritornello pongono Bachelard Il ritornello è la difesa dal caos messa in atto da qualsiasi forma vivente vegetale animale uccello e uomo che sia il ritornello è un tessuto di ritmi che resta comunque intramato dal caos d'altra parte il ritmo di Bachelard restava intramato di nulla non si sovrappone semplicemente il caos è il modo attraverso cui ogni essere vivente attraversando il caos va a costituire un territorio delimitare un territorio attraverso i propri ritornelli non è come pensava Corrad Lorenz semplicemente l'effetto dell'aggressività della forma vivente Deleuze non è d'accordo con questa lettura di Lorenz perché vede nel ritornello la manifestazione espressiva artistica di stile della individualità della forma vivente fare della terra un territorio attraverso i propri ritornelli ritmici è costruire esprimere il proprio etos singolare nell'ultimo scritto di Deleuze l'esausto la stessa immagine è descritta ed è definita come una sorta di piccolo ritornello visivo che risuona fuori dal linguaggio e anche Deleuze nella disamina del ritornello non si chiede più che cosa è il tempo come se abbandonasse la domanda TST ma preferisce mostrare invece le pratiche ritmiche nelle quali la vita si esprime temporalmente e qui finisco la dialettica della durata alla fine del penultimo capitolo evocava un rapporto essenziale tra ritmo e infanzia diceva Bachelard l'infanzia è la fonte dei nostri ritmi è nell'infanzia che i ritmi sono creatori e formatori ecco io non credo che sia un caso che il libro il ritornello inizi così nel buio colto da paura un bambino si rassicura canticchiando cammina si ferma al ritmo della sua canzone sperduto si mette al sicuro come può e si orienta alla meno peggio con la sua canzoncina esse come l'abbozzo nel caos di un centro stabile e calmo stabilizzante e calmante credo che anche al di là delle intenzioni e delle volontà di omaggio e di riconoscimento che sinceramente per quanto mi riguarda avrei voluto più esplicite in Deleuze nei confronti di Bachelard si offre comunque qui a noi lettori un ritornello particolare un ritornello filosofico che va a segnare a disegnare il territorio di un'impresa del pensiero quel territorio ritmato dal lavoro di Bachelard di cui ancora non intravediamo i confini grazie 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 grazie